Amici e amiche di Sportome, benvenuti dal Bacigalupo per Taormina Ionica 26esima ed ultima giornata del campionato Under 15 regionale. Taormina che si schiera con Barbera, Modeo, Interdonato, Restuccia, Costa, Gitto, Cariolo, Miduri, Summa, Scandurra e Caffarella. Ionica che risponde con Cacopardo, Foti, Raneri, Panteoro, D'Agostino, Matta, Chillemi, Neri, Nicosia, Maccarrone e Lourenco. Gara affidata al signor Pietro Messina della sezione 10 Reale. Ionica che batterà il calcio d'inizio di questa partita. Prova in lancio la Ionica, c'è il recupero del Taormina che adesso può avanzare con Caffarella, vince un contrasto l'11, ancora Caffarella in aria col Mancino. Intervento decisivo della difesa ospite. Rimessa laterale per il Taormina, l'appoggio su Scandurra, poi il cross in aria. Pallone buono per Miduri, filtrante interessante per Caffarella che sblocca il parziale del Bacicalupo. E porta avanti il Taormina. Grandissimo passaggio di Miduri, tap in, vincente di Caffarella. Rivediamo il passaggio di Miduri e poi il tocco, vincente di Caffarella che ha battuto Cacopardo per l'1-0 del Taormina. Punizione dalla lunga distanza per la Ionica, a parte Lourenco. Ed è un gol magistrale che vale l'1-1 degli ospiti. Ritorna subito in partita la Ionica con una perla di Lourenco. Rivediamo la botta da fuori di Lourenco che ha riportato il parziale in parità al Bacicalupo. Occhio alla Ionica che spinge ancora. Traversone in aria, buco della difesa della Taormina. La sfera quindi arriva a Chillemi. Tenta lo scavetto, il numero 7 la traversa. Poi sul tap in arriva Nicosia che corregge in rete. E' completa la rimonta della Ionica parziale che cambia ancora al Bacicalupo. Adesso è 1-2. Rivediamo il pallonetto di Chillemi che ha toccato la traversa del Taormina. E poi il destro potente e preciso di Nicosia. Calcio d'angolo per la Ionica. Libra l'aria il Taormina. La sfera quindi finisce a Nicosia che allarga bene il gioco sulla sinistra. Traversone interessante per Maccarrone. E ci vuole un super Barbera per dirgli di no. Rivediamo l'acrobazia del numero 10 e la reattività e l'istinto di Barbera. Punizione dal limite per la Ionica. Occhio a Panteoro che realizza un grandissimo gol. Sulla scia di Lourenco segna anche Panteoro. Mandando il punteggio sul 3-1 per la Ionica. Rivediamo il destro di Panteoro che si è insaccato all'incrocio dei pali. Chillemi vuole la giocata profonda. Gran numero di Nicosia che adesso ha spazio per entrare in aria. Ancora Nicosia. Tu per tu con Barbera. Vicinissima al quarto gol la Ionica. Primo cambio per il Taormina. Battiato prende il posto di Costa. Seconda sostituzione nel Taormina. Lombardo fa il suo ingresso per Scandurra. Attacca subito la Ionica. Buono il suggerimento per Chillemi che controlla sopra un avversario. Chillemi a tu per tu con Barbera. Rimane freddo e non sbaglia per il poker della Ionica. Segna anche il numero 7 in questa partita. Rivediamo il gran numero di Chillemi e poi il destro. Vincente che ha battuto Barbera. Accelerazione interessante di Raneri che ha spazio per andare sulla sinistra. Raneri taglia l'aria con l'assist per Lourenco. Che segna ancora e manda il punteggio sul 5 a 1 per la Ionica. Grandissima sgaloppata di Raneri. E tap in. Vincente di Lourenco. Rivediamo il traversone vincente di Raneri e poi il destro. Facile facile per Lourenco. Terzo cambio per il Taormina. Entra Centorrino al posto di Gitto. Quarta sostituzione per il Taormina. Fasli prende il posto di Miduri. Quinto cambio per i padroni di casa. Entra Ragusi al posto di Cariolo. Fa il suo ingresso Gatto al posto di Restuccia. Calcio ad angolo interessante per la Ionica. Pronto ad andare Chillemi. Chillemi che sfrutta l'errore di Barbera e fa 6 a 1 per la Ionica. C'è la doppietta anche per Chillemi. Rivediamo il cross di Chillemi e poi il buco difensivo del Taormina. Chiude le sostituzioni il Taormina con Caffarella che lascia il campo per Rappino. Punizione Ionica affidata al sinistro di Neri. Un po' di confusione in aria. Arriva Foscolo che subentra dalla panchina e va in gol. Il punteggio che va sul 7 a 1 al Bacicalupo. C'è anche la firma di Foscolo sulla vittoria della Ionica. Rivediamo il destro ravvicinato di Foscolo. Non ci arriva Barbera ed è 7 a 1 Ionica. Taormina che ricomincia da Barbera. Pronto con il rinvio lungo ma finisce così. Fischia tre volte Messina. Ionica batte Taormina per 7 a 1 al Bacicalupo. Nell'ultimo incontro valido per il campionato under 15 regionale. Taormina che perde un'altra gara e che di conseguenza retrocede nel campionato provinciale. Una stagione in salita per i biancazzurri che tuttavia hanno giocato tantissime partite con giocatori sotto età. Uno stimolo comunque per una formazione ambiziosa che sicuramente vorrà ritornare al più presto a disputare il campionato under 15 regionale.